Marco Sanginario, coordinatore delle attività sportive del CUS, siamo alla vigilia di un grande evento organizzato in collaborazione da Unimol e CUS. Quali le sensazioni? Le sensazioni positive, è un segnale che il Molise esiste, esiste con le sue peculiarità e con le sue splendide strutture dove ospiteremo 5.000 studenti giovani che provengono da tutte le città d'Italia, li accoglieremo al Palaunio, alla cittadella di economia, penso allo stadio di Sernia, allo stadio di Agnone, quindi faremo vedere il meglio che il Molise può offrire. Dal punto di vista sportivo ci saranno tante discipline, tanti campioni, per la nostra regione un obiettivo da visita sicuramente importante. Importantissimo, come ti dicevo, abbiamo scelto veramente le location migliori e siamo pronti a raccogliere tutti gli studenti, siamo pronti anche a gareggiare perché non dimentichiamo anche il lato agonistico della competizione, siamo pronti a scendere in campo con le nostre rappresentative, calcio a 5, maschile e femminile, basket, karate, atletica, ci sarà da divertirsi e siamo pronti a accogliere questi ragazzi che verranno da tutte le parti d'Italia. Tornano i CNU in Molise a distanza di 8 anni, tempo ne è passato, si è cresciuti, quali possono essere gli obiettivi? L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre, sarà difficile perché il 2010 fu un CNU organizzato veramente bene, noi ce la stiamo mettendo tutta, il ringraziamento va a tutti i ragazzi che ci stanno dando una grossa mano, i nostri coordinatori e cercheremo di farci trovare pronti anche se le sensazioni sono del tutto positive.